E' morto Ettore Cro, uno dei feriti nella sparatoria di Capaccio Pestum nella notte tra il 13 e il 14 luglio scorsi. Insieme ad altre due persone era stato colpito da proiettili esplosi dai fratelli Ciccarelli. L'uomo era padre di due figli e aveva 53 anni. Nello specifico furono diversi i colpi ricevuti dalla vittima, le cui condizioni sono apparse fin da subito molto gravi. Trasportato d'urgenza all'ospedale Ruggi da Raguna di Salerno, è stato sottoposto ad operazione per estrarre i proiettili e curare le ferite. Queste però erano molto serie, tant'è che la sua condizione è rimasta sempre critica fino al drammatico epilogo. Nella città dei Templi era in svolgimento il Festival Internazionale del Sordo. Presso l'hotel Ariston, per ragioni ancora al vaglio della procura di Salerno, ci fu la sparatoria, nella quale ebbero la peggio in tre. Dopo appena 24 ore, Gaetano e Raffaele Ciccarelli, fratelli, monteciclisti sordi come la vittima, si sono costituiti come autori del gesto in quel discafati. I due residenti a Qualiano sono stati incriminati per tentato omicidio plurino, detenzione e porti illegale di armi da fuoco. Adesso ovviamente i capi di accusa si aggravano con l'aggiunta di omicidio. Dalle indagini si capirà se è intenzionale, colposo o addirittura premeditato per chissà quale questione. Gli inquirenti sono al lavoro, gli altri due feriti sono fuori pericolo di vita e in miglioramento. Grazie per la visione!